Benvenuti e benvenuti al Mono Giornale. Le notizie come e quando vogliamo noi. Edizione del 19 novembre 2021. Diamo ora lettura della prima e unica notizia del giorno. A seguito delle isternazioni del Cardinal Bassetti secondo il quale chi non fa la punturina non è figlio di Maria Eva contro il Vangelo si è scatenato un putiferio. Ebbene è stato appena reso noto il ritrovamento di un nuovo frammento dei rotoli del Mar Morto a sostegno delle tesi dell'Alto Prelato e che getta nuova luce su ciò che accadde durante l'ultima cena. Lasciato in un polveroso cassetto a causa della difficoltà nella comprensione del testo oggi è finalmente tornato alla luce nel tempo in cui ogni cosa sta andando al suo posto. Noi lo abbiamo ricevuto in esclusiva e siamo in grado di proporre la lettura in anteprima mondiale. Dal Vangelo secondo Succa 22 24 31 poi prese una siringa, rese grazie, la moltiplicò per 12 e disse prendete e vaccinatevi tutti. Questa è la siringa della nuova ed eterna alleanza che viene offerta per voi in remissione dei peccati dai filantropi di Big Pharma. Fate questo in memoria di Bill Gates. Ma ecco la mano di chi mi tradisce è con me sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va, secondo quanto è stabilito. Ma guai a quell'uomo dal quale è tradito. Egli sarà maledetto e porterà seco il marchio dell'infamia. Egli sarà detto Lovax. Ringraziamo il dipartimento di minchiate assortite per all'occhi ben pensanti della Sacra Corona Unita di Maria di Mattala che ci ha permesso di divulgare il contenuto di questo incredibile reperto. Per oggi è tutto. Alla prossima volta che avremo voglia di dire qualcosa.